Il 12 e 13 ottobre i volontari del gruppo comunale di protezione civile saranno presenti in piazza anche a Villa San Giovanni per la campagna Io non rischio. Ad annunciarlo è l'assessore delegato Pietro Caminiti che con il supporto della squadra di volontari villesi sta dando massima diffusione all'iniziativa che li vedrà protagonisti. Il volontariato di protezione civile e le istituzioni si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro paese. Il 12 e 13 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi Io non rischio nelle principali piazze italiane per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. A Villa San Giovanni le giornate si svolgeranno il 12 ottobre in piazza Valsesia e il 13 ottobre in piazza Chiesa Cannitello. I temi trattati saranno inerenti al rischio sismico e maremoto. Quest'anno la campagna Io non rischio, giunta alla nona edizione, aprirà la prima settimana nazionale della protezione civile. Sette giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino l'eservizio nazionale della protezione civile. Il cuore dell'iniziativa è il momento dell'incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.